Musica Ah hi people of youtube Welcome back to a new episode of Centro Due a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata dove Il membro della gang qui tiene sia la birra che il fucile Non so Non so se rispettarti o dirti di tenere uno dei due e basta Vabbè iniziamo la nuova missione dei Brotherhood Mentre ci sono dei senza tetto che dormono qui Il rifiuto di Maero Uh me la ricordo questa parte Ne Eh questo è vero Poveraccio dai Però alla fine si impegna Peccato che hanno tolto questa feature Di poter girare sulla metro Oh no Non sono abbastanza forte Poveraccio Allora minchia abbiamo 15 minuti Abbiamo solo 16 minuti per completare la mission 15 minuti per completare la missione Ok calmi tutti Dov'è il friendly fire? Perfetto è là Mi serve una macchina da 4 posti Tu hai 4 posti? Ti direi di sì Perfetto dammi la macchina Dai su sali Poverà Sto poverino Gli hanno rubato la macchina E' stato investito una volta Ed è stato investito anche la seconda Ok eccoci al friendly fire Che cosa dobbiamo comprare qui? Non ne ho idea Compro un contatore Geiger Ok Va bene Dov'è il contatore? Penso che ce l'hanno già dato in automatico Giusto? Ok sì Andiamo alla centrale nucleare Forza Forza voi due Dai 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 che abbiamo poco tempo E non ho tempo di starvi dietro Allora Dobbiamo girare a sinistra E prendere la barchetta Eccoci arrivati Perfetto Forza 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 Penso che non abbiamo troppo tempo Abbiamo solo 13 minuti Ci entrano tutti Dai 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 su Bravo Chi stiamo chiamando? Non ho visto Ho visto solo preparati Perfetto Bravo Carlos Dai così mi piace Anche se non sei ancora Cazzuto come vogliamo Comunque Sei propositivo Non mi deludere Grazie Allora Dobbiamo trovare un punto Allora facciamo il giro E parcheggiamo La macchia dall'altra parte La macchina Sì La 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 cosa qui dall'altra parte Beh Direi che ci siamo no? Madonna mia Ma che culo C'è subito parcheggiato nel posto giusto? Credo che sia Altamente rischioso E ipertossico Tutto ciò Merda Come ci arrivo? Ah giusto È vero L'elicottero Allora per l'elicottero Dobbiamo andare di qua Un tizio Mi sa che è caduto in acqua Perfetto Eh beh Mi dispiace Sono cose che cadono Eh sei stato visto Ma va L'importante è continuare a correre No? Ok dai Ce la possiamo fare Secondo me Mi servirebbe un veicolo Per arrivare prima Là in fondo però Esattamente Guarda un po' Oh calmi Fermo Tu 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 Dammi quel veicolo Bravo Ok dai 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 Che ce la si fa Ce la facciamo Ce la facciamo Eccoci qua Allora Allora dobbiamo solo trovare Il modo di salire Eccole qua Ci sono le scale Perfetto Io non attaccherei nessuno Nel senso Almeno non ci arrivano addosso Più di quanto Ne arriverebbero Già adesso Forza 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 Ok ora Dobbiamo uccidere tutti per forza Mi spiace Ce n'è Anche gente sotto Ecco fatto Ok Gli altri Gli altri Sono tutti sopra Oh si si ma Senti anche degli spari Ma non ti muovere Mi raccomando Rispondi Oh no Gli ho sparato Al mio companion Tirati su Eh ma va Ecco fatto Ah dobbiamo restare qui Un minuto e venti Con sto continuo suono Sul serio Va beh Dio mio Meno male Meno male che c'è Penso di cemento Che mi ha Mi ha tenuto vivo Stavo per morire di sotto Ci sono un sacco di poliziotti Che stanno per arrivare Aspetta Ecco fatto Credo di essermi Liberato Della maggior parte Ecco fatto Distrutti tutti E ho quasi finito le granate Quindi Restiamo in attesa Aspettiamo Carlos Ne arriva uno Non è più arrivato Non è vero Ecco morto Ne arrivano altri Aspetta Aspetta che devo ricaricare Ecco fatto Dove sei Carlos Forza forza Tutti su Tutti su Spero che quei due Siano saliti Credo di no Chi cazzo è sto tizio Dove siete C'è qualcuno Che mi sta sparando E credo sia un altro Elicottero Ma non lo vedo Ah eccolo Ecco fatto Ma porca Torna qui Boh Vanno per la loro strada Loro Fin troppe Dov'è Eccolo che arriva Un po' troppo in alto Aspetta che Credo che ci siamo Lagna 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 Madonna mia Veramente Come se fosse la prima volta Che qualcuno cerca di ammazzarti Su Guarda quanti fucilazzi Cosa Perché Ma perché Non c'era fumo Fino a due minuti Due secondi fa Va bene Va bene Ok Allora prendiamo questa di macchina Che mi piace tanto Nei colori Signora La rispetto molto Per questo Lo sappia Oh c'è uno dei nostri Vieni su Sali Bravo ragazzo E ora Andiamo Qua in fondo Dal tatuatore Che è successo Però per fortuna Alla fine siamo arrivati Occupatevi voi Dalla pula Eccoci qua Uff Madonna mia Una bombola Una bombola del gas Esplosa Da La continuazione dell'altra parte comunque Comunque penso che l'effetto non sia così immediato Non so che tipo di rifiuti tossici Abbiano buttato in faccia ma Non credo che Penso che o subito nell'immediato Gli doveva già bruciare la faccia O comunque nel tempo La radiazione è qualcosa Però non sono un tecnico nucleare Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Noi ci vediamo al prossimo episodio